Due calci di rigore di Terranova per l'Acri e di Morabito per la Promosport fissano il risultato sull'1-1 in una partita delicata per entrambe le compaggini. L'Acri per rimanere nelle zone alte della classifica e quindi confermare il suo quarto posto alle spalle del Praia Tortora battuto ieri nell'anticipo della Rossonese e dal Promosport stesso di mantenere la sua terz'ultima posizione precedendo Cassano, Cutro e San Marco. È stata la giornata dei pareggi non solo per questa partita tra l'Acri e la Promosport ma anche lo scontro diretto proprio tra Cutro e San Marco e lo stesso Cassano che ha pareggiato con la Nuova Rogliano. Quindi poco movimento in coda alla classifica mentre per quanto riguarda la testa della classifica come dicevamo si ferma il bel vedere mentre la Rossonese si avvicina proprio in virtù della vittoria di ieri. L'Acri come abbiamo sempre sostenuto in queste cronache delle partite domenicali alterna partite abbastanza importanti e purtroppo altre domeniche in cui non riesce a venire a capo e raccogliere i tre punti importanti per la posizione altissima della classifica. Fatto sta che il quarto postione ancora le consente di giocarsi il playoff proprio contro il Praia Tortora.